Genitori, nonni, zii, ragazzi oppure personale che lavora nelle scuole e così via. Verrà illustrato un corso gratuito di tecniche salvavite, in particolar modo di manovre, di sostruzioni pediatriche. Ogni anno in Italia circa 50 famiglie vengono distrutte a causa della morte di un bambino per soffocamento da corpo estraneo. Se solo chi è in quel momento presente fosse in grado di praticare manovre di salvamento, la tragedia potrebbe essere evitata. Per questo l'associazione Agora, in collaborazione con il centro di formazione Simba, affiliato alla Salvamento Academy, ha organizzato per domani alle 17 presso la propria sede associativa in corso Garibaldi a Santo Spirito di Bari, un corso gratuito mirato alla diffusione della cultura del primo soccorso. Un modo per far comprendere come le pratiche salvavita, spesso ritenute esclusivo appannaggio di specialisti, possano essere apprese e utilizzate da chiunque. Molto spesso non si sa come reagire di fronte a questi casi. Quindi, nello specifico, grazie a un'istruttrice, la dottoressa Salumone, che fa parte del centro di formazione Simba, affiliato alla Salvamento Academy, illustrerà con delle slide il corso teorico e successivamente si procederà, per tutti i partecipanti, con dei mediaichini a delle prove tecnico-pratiche. Molto spesso si ritiene che queste tecniche siano soltanto appannaggio esclusivo da parte di specialisti, ma in realtà non è così. E quindi vogliamo dimostrarlo, nel caso in cui si verificano queste condizioni, che apprendendo queste semplici tecniche si possono evitare tragedie dolorose. L'iniziativa si svilupperà in due momenti, una sessione teorica di presentazione e una sessione pratica su manichini. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.